Secondo giorno di ritiro per il Brescia Calcio Femminile Quatemù, oggi siamo con una giovane promessa delle leonesse, Martina Tomaselli, centrocampista, che oggi ha anche ricevuto la convocazione della Nazionale Under 17 di Massimo Migliorini. Martina, questa bellissima soddisfazione oggi in un momento in cui state anche legando con la squadra Quatemù il ritiro, come sta andando? Il ritiro sta andando benissimo, con la squadra mi trovo bene, infatti questo è anche un modo per legare di più con la squadra e fare gruppo. Martina, oggi è arrivata anche questa convocazione dall'Under 17, come hai reagito alla notizia? Con te ci sarà anche una tua compagnia di squadra, Paola Voglioni, immagino che sarai doppiamente contenta. Beh, è stato veramente emozionante, non vedo l'ora di giocare, dare il meglio di me contro una squadra che ci metterà alla prova. Tu sei trentina, quest'anno è il tuo primo anno a Berescia, quindi questo paesaggio alpino ti impressiona fino a un certo punto, però raccontaci un po' di te, come sei, che tipo di giocatore sei? Sei un centrocampista di rottura o ti piace creare gioco? Raccontaci qualche tua caratteristica tecnica. A me piace sia la fase difensiva che la fase offensiva, mi piace inserirmi molto fra le linee e andare in profondità, per distruggere il gioco me la cavo. Ti piace fare la interdizione in squadra? Ultima domanda, ti facciamo riposare e andare a farti la doccia meritata dopo questo impegnativo allenamento, doppia seduta. E ormai è qualche settimana che sei in casa con altre compagne, hai legato con qualcuno in particolare oppure un gruppo che trovi bene? Con tutte quante, mi sono integrata molto bene nel gruppo, infatti sono contenta. Con il capitano della squadra, Cristiana Girelli. Cristiana, come sta andando questo ritiro? Oggi siamo al secondo giorno, altra giornata di lavoro intenso, ma raccontaci un po' l'ambiente, le sensazioni prima di questa stagione. Innanzitutto è una bellissima cosa che siamo in ritiro, abbiamo la possibilità di stare una settimana tutti insieme. Credo che oltre al mister serva anche a noi per trovare l'amalgama giusta perché credo sia fondamentale. È un gruppo nuovo e abbiamo bisogno di trovarci, di provare quello che bisogna provare in campo e poi anche di passare del tempo insieme per conoscerci e credo sia il momento migliore. Un gruppo che è molto assortito anche a livello anagrafico perché ci sono giocatrici molto giovani, giocatrici più esperte e tuttavia sembra che l'intesa ci sia già. Sì, siamo un gruppo molto giovane, visto che praticamente ci siamo di vecchie poche e di giovani tante, quindi sicuramente è fondamentale prima trovare la giusta intesa anche tra noi e i giovani, la voglia non deve mai mancare e poi sicuramente sarà tutta la squadra che farà la differenza e il gruppo. È molto intenso il periodo che si prospetta perché tra qualche giorno ci sarà il sorteggio di Champions League, poi il primo turno di Coppa Italia. Qual è il karma che c'è in questo momento? Come le sensazioni, le vibrazioni prima di questi impegni e l'attesa che c'è per questo sorteggio? Sì, io sicuramente non vedo l'ora di sapere chi sarà la nostra avversaria, ma soprattutto non vedo l'ora di giocare. È chiaro che manca poco perché effettivamente il tempo stringe, avremo la Coppa Italia, poi c'è la Nazionale e poi sarà subito Supercoppa, quindi è importante in questi giorni cercare di provare il più possibile perché poi il tempo stringe e quindi ci sarà poco tempo per provare le varie situazioni, però io personalmente non vedo l'ora di cominciare la stagione. E dentro, nell'ultima settimana di agosto, appunto ci sarà probabilmente anche il sorteggio dei calendari del campionato. Cosa succederebbe se ci fosse lo scherzo del destino contro la Juventus e incontrassi tutte le vostre compagne? Hai avuto modo di sentirle? C'è attesa anche per questa cosa? Ma no, sinceramente non abbiamo ancora parlato di questo. Ci sentiamo perché non sono mie compagne, ma sono mie amiche e quindi sicuramente le sento, ma anche per altri argomenti. Ma se sarà il Brescia-Juventus sarà un inizio col botto, dai, pensiamola così.